E niente, insomma, corriamo dietro alla che e alla fissa armonica. Andiamo quindi a raggiungere i nostri amici ciclisti che si stanno allenando per il Gran Premio della Montagna della Gran Fondo Michele Scapponi e riempirsi gli occhi delle bellezze del panorama. Alcune strade della Gran Fondo, in particolare quelle che circondano. E andiamo incontro ai nostri... Oggi vi presentiamo un viaggio straordinario, un viaggio costa a costa della Sardegna. Albe meravigliose nella costa est a Calafuini. Arrivando a Cupramontana non si può non notare le distese di vigni. La Sagra del Vino di Cupramontana è tra le più antiche d'Italia. La Sagra dell'Uva, come si chiama qui a Cupramontana, Sagra dell'Uva. E' il suo vermino? No, allora rifacciamo. Ma il Palazzo dei Marchesi Pianetti. Un'annunciazione proprio all'interno di una particolare... Prova. L'architettura che porta tracce della dominazione. E' molto importante la sua... Lo facciamo? C'ha sempre l'occhiaio. Ah no, però... Ma sì. Oddio, ho visto una cosa con panna montata enorme. Oh, bene. Sperotto. Sperotto. No. Votasto. Sperotto.